L'Antucova non lo riesce a fare per altri motivi Impressionante Maria Cialapoma Ottimo E che ritmo Anche Ace Molto volute, sicuramente non così lunghe Però Ancora un grande angolo Il mio viso l'ha un po' frenata dal punto di vista della crescita tennistica Il campo non ha cercato di forzare ancora di più Come dicevi tu Si è meglio È qui Pronto recupero Gioco per Minos Williams Ecco la prima palla fa la differenza Annullato Brillo preventivo Il servizio Vinos fa la differenza Però qui aveva risposto anche abbastanza bene E lascerà Invece lo trova in canso Ehi sono fiero Ha ritrovato un improvviso Ancora incontro pieno E pugnetto Quella Cambio di ritmo da parte di Vinos Importante come sono invece le campionesse di oggi Quindi 16 anni Tornano forse ad essere 16 anni Nel tennis del 2000 Mentre magari S'hanno dato un'ulteriore svolta La prima svolta l'aveva data Martina E loro Ace Randstor Ex-coach di Tressi Osti Dal lato del diritto L'autorità rimane Liga con la risposta E poi rovescio lungolini Quasi ei E poi e ancora una volta stacca la presa d'Ivane e gioco per mano sinistra Sharapova non arriva e il punteggio con Maria Sharapova che è stata avanti per 5 a 1 nel primo set dopodiché ha portato a casa soltanto 3 giorni